riguardo sempre al tema della Pasqua vi volevo leggere anche questa frase che dice di Steiner dove dice la morte di Gesù di Nazareth fu la nascita entro la sfera terrestre dell'amore cosmico ogni operante ecco la resurrezione che cos'è? la resurrezione è la vittoria del Cristo sulla morte detto in altri termini, in termini antroposofici è la vittoria su Arimane su Arimane cioè sul demone della materia ma questa vittoria avviene proprio perché Cristo decide di tra virgolette di unirsi alla terra cioè di prenderne su di sé le sorti di non lasciarla al cosiddetto principe di questo mondo appunto infatti in seguito alla morte sul Golgotha cosa succede? sono sempre, in questo caso non sono frasi non sono parole di Steiner sono parole di un altro autore che ha scritto una importante, molto importante opera sulla interpretazione antroposofica della vita del Cristo che è Emil Bock la sua opera si intitola I tre anni dicevo, dopo la morte sul Golgotha cosa succede? succede che secondo le parole di Emil Bock la terra riceve il corpo e il sangue del Cristo si avvera la grande comunione e viene così incorporata nell'esistenza terrena la possibilità di spiritualizzare tutta la materia viene somministrata la medicina risanatrice qualcosa che ricorda che ci ricorda quello che diciamo su Aurobindo soprattutto la Mea il materialismo divino ma adesso su questo parallelo non possiamo inoltrarci anche se magari sarebbe per certi versi interessante comunque dicevo dopo la Pasqua gli Apostoli succede che ci siano momenti in cui incontrano il Cristo risorto lo sappiamo ecco vivono questi incontri come in uno stato di sogno soprattutto nei dieci giorni che seguono l'ascensione però accade che alla Pentecoste le coscienze si in qualche modo si risveglino si ridestano cosa vuol dire? vuol dire che l'Io del Cristo si immette si effonde negli Io dei discepoli fino a fare dei discepoli i primi uomini della nuova creazione animati dal Cristo in se stessi ecco allora secondo l'interpretazione di Steiner secondo l'antroposofia il cristianesimo è vero e proprio dunque ha inizio nella storia dell'uomo con la Pentecoste cioè quando il Logos prende dimora nel cuore degli apostoli nella forza calorica del sangue che è a sua volta simbolicamente indicata dalle fiammelle di fuoco che compaiono sopra alle loro teste come sappiamo e su questo vi volevo leggere un altro brano che è tratto da il quinto Vangelo oh scusate non avevo spento il cellulare gli apostoli si sentirono come fecondati dall'alto dall'amore ognioperante e come risvegliati dalla forza primordiale dell'amore che compenetra e riscalda l'universo tutti sentivano quasi che essi potevano guardare in ogni anima e in ogni cuore e indovinare i segreti dell'anima nella sua più profonda intimità cosicché potevano confortare ognuno dicendo proprio ciò di cui egli allora aveva bisogno ecco 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 è in questa in questa prospettiva che viene aperta dalla Pentecoste si compie l'evento di Damasco la la conversione di Paolo per Steiner l'apparizione del risorto al futuro apostolo Paolo è un momento cruciale nella parabola umano cosmica del Cristo vi leggo ancora un altro brano questo brano è tratto da un intervento che Steiner fece al congresso teosofico di Budapest nel 1909 e dove dice questo i misteri avevano sempre conosciuto l'essere Cristo vi riassumo un po' nell'India dei sette Rishi lo avevano chiamato così in Egitto lo avevano chiamato Colà Zaratustra il popolo ebraico la quarta epoca di cultura di cui abbiamo accennato quando abbiamo parlato della filosofia della storia secondo Steiner nella quarta epoca di cultura questo stesso essere visse per tre anni nella nostra terra egli è colui che in futuro collegherà di nuovo la terra con il sole nel momento in cui sul Golgotha sgorgò il sangue delle ferite del Redentore il Cristo si unì misticamente alla terra e da allora egli si rese visibile all'aura della terra chi fu il primo a vederlo? Paolo che poi operò moltissimo per la divulgazione del cristianesimo quale fu l'evento che rese Saulo Paolo? non le dottrine non i fatti di Palestina ma l'evento di Damasco un evento sopra sensibile ecco e la missione del Cristo sulla terra qual è? la missione del Cristo è condurre l'uomo alla piena coscienza di sé all'io sono nell'ebreo quel io sono era vissuto come a livello di identità etnica lo si capisce anche delle parole bibliche il dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe no? invece Cristo dona questo io sono questa identità lo dona la dona a ogni uomo come coscienza individuale questo perché il Cristo è egli stesso espressione dell'io sono e questo per Steiner è provato è evidenziato da diverse frasi che noi troviamo nel Vangelo di Giovanni e noi troviamo nel Vangelo di Giovanni io sono il pane di vita io sono la luce del mondo io sono la porta io sono la via la verità la vita ecco frasi che Steiner chiamava detti io ecco e invece l'esoterismo cristiano vero e proprio per Steiner quando inizia l'esoterismo cristiano si identifica secondo Steiner proprio con il cristianesimo Giovannita cioè il cristianesimo del quarto evangelo e risale a una figura precisa di mistico di teologo di filosofo chiamiamolo come vogliamo che è Dionigi Areopagita fondatore della prima della più antica scuola mistica cristiana ricordo piccola parentesi ricordo che l'identificazione di Dionigi Areopagita con l'inizio della mistica cristiana è qualcosa che non è proprio solamente un'idea solamente di Rudolf Steiner ma molti altri sono dello stesso avviso e saranno sempre dei cristiani Giovanniti dice Steiner a custodire nel Medioevo Tardo la Coppa del Santo Graio poi ci sarà l'avvento dell'era moderna dell'età moderna nel quindicesimo secolo quindi con il fiorire dell'anima cosciente e si sentì l'esigenza quindi di un nuovo modo di concepire di vivere il cristianesimo sappiamo che in questo periodo abbiamo a che fare con riformatori come John Wycliffe come Janus ecco furono proprio loro i primi a proporre contro la chiesa di Roma una concezione del Cristo fondata sulla forza interiore presente in ogni uomo e non quindi sul principio dogmatico dell'autorità difeso dalla compagnia di Gesù nel seicento e che a sua volta è basato su un approccio legato a una comprensione dialettico intellettuale dello spirito questo sarà il cristianesimo riformato che sarà storicamente di base secondo Steiner al successivo movimento rosacruciano a cui Steiner dedicò tante conferenze tanti testi tante opere e per quanto riguarda il Cristo nell'era attuale nell'epoca attuale allora Steiner dice questo vi leggo una sua frase dice il Cristo è talmente grande che ogni epoca dovrà trovare nuovi mezzi per riconoscerlo più specificatamente a partire dalla prima metà del ventesimo secolo ci sarà per gli uomini un nuovo modo di percepire il Cristo in linguaggio antroposofico si parla di avvento del Cristo nel mondo eterico e grazie a questo avvento eterico che cosa cosa accade sono sempre parole di Steiner il Cristo apparirà a un numero sempre maggiore di persone come essere realmente e immediatamente presente nel mondo eterico ecco è un evento questo evento sarà quello che più contrasterà il dilagare del materialismo secondo Steiner e questo tipo di questo esperire particolare Cristo particolare nel senso questo esperirlo sul piano eterico è qualcosa naturalmente che per Steiner stesso è molto accostabile all'esperienza che ebbe Paolo a Damasco all'esperienza che del Cristo ebbe Paolo e con questa citazione che adesso vi faccio chiudiamo il nostro discorso relativamente al Cristo interpretato da Rudolf Steiner per passare poi a un altro tema questo è un brano tratto da una conferenza dell'undici e Steiner dice così dice nel corso dei prossimi tre millenni l'esperienza di Paolo a Damasco si ripeterà per un numero abbastanza grande di individui ciò significa che negli uomini si svilupperanno nuove facoltà che consentiranno loro di percepire soprassensibilmente il Cristo come figura eterica similmente a quanto è avvenuto davanti a Damasco per Paolo nel corso dei prossimi tre millenni questa percezione del Cristo si attuerà poco a poco negli uomini in virtù di facoltà soprassensibili che si stanno sviluppando in loro ciò ha inizio nel nostro secolo ventesimo ecco detto questo passiamo a un altro tema molto molto importante nell'antroposofia quindi volevo dirne almeno qualcosa che è la legge del karma secondo Steiner ma magari prima facciamo una pausa magari prima che è un altro che è che è la legge ciò che è che è così che è